Isola dei Famosi 2018, arriva il comunicato stampa ufficiale di Chiara Nasti sulla vicenda del Cannagate. Chiara Nasti, la giovane fashion blogger ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi, ha divulgato un comunicato stampa ufficiale dopo il filmato mandato in onda da striscia la notizia in cui è stata diffusa una sua conversazione privata in cui si ascoltano dichiarazioni dell'ex naufraga a cena con il marito di Eva Enger, che avvaloravano tutte le accuse di quest'ultima contro Francesco Monte. Il comunicato ufficiale di Chiara Nasti. Mi sento in dovere di prendere una ferma e netta posizione in ordine ad una vicenda che, mio malgrado, mi ha visto coinvolta non appena tornata in Italia al termine dell'esperienza vissuta al programma televisivo L'Isola dei Famosi. Ma andiamo con ordine. Una volta in patria mi sono imbattuta nel Vespaio e nell'interesse mediatico venutosi a creare intorno alle accuse lanciate in diretta, nel corso della trasmissione della seconda puntata serale del predetto show, da Eva Enger. Quest'ultima aveva in pratica denunciato l'acquisto e l'uso di marijuana da parte, in particolare, di un altro concorrente durante i giorni, che avevano preceduto lo sbarco dei naufraghi sull'isola. Per mero dovere di cronaca, mi preme evidenziare che, in occasione della richiamata circostanza, la sottoscritta non era più presente perché già ritiratasi in precedenza dal programma. Sollecitata a più riprese sull'argomento dai mezzi di stampa, ho sempre cercato di tenermi equidistante da una storia, che innanzitutto non mi vedeva personalmente protagonista, e che poi rischiava di assumere toni e contorni pericolosi, specie sotto l'aspetto delle eventuali responsabilità penali, per i due apparenti contendenti. Nonostante le precauzioni adottate sul tema, il mio nome è stato recentemente tirato in ballo dal programma televisivo Striscia la Notizia, trasmesso da Canale 5, la medesima emittente su cui viene proposta l'isola dei famosi, infatti. Il noto telegiornale satirico ha illegittimamente diffuso un'intercettazione audio registrata probabilmente nel corso di un pranzo privato tenutosi in un ristorante di Milano, nell'immediatezza del mio ritorno in Italia, in compagnia del solo mio fidanzato Ugo e del marito di Avenger, Massimiliano. È di tutta evidenza, che la condotta del programma Striscia la Notizia, che ha temerariamente divulgato a mezzo della TV, ed in più di una puntata, delle conversazioni private non autorizzate, così come quella di che abbia in qualche modo favorito tale indebita azione, non solo siano da considerare in violazione delle più basilari norme in materia di privacy, ma con figurino senza ombra di dubbio una titica forma di reato. È per tali ragioni, che mi sono sentita oggi in dovere di conferire formale incarico ai miei legali di fiducia affinché gli stessi possano, nelle opportune e competenti sedi, esperire ogni azione idonea a tutelare la mia immagine, il mio decoro e la mia persona, nel senso più semplice del termine. Ovviamente non tornerò più in seguito su un argomento, che assolutamente non mi riguarda, confidando che il mio nome non sia mai più oggetto di assurde quanto illecite strumentalizzazioni e dinamiche mediatiche, prettamente connesse ad inequivocabili obiettivi di audience televisiva. Non ho alcun bisogno di apparire a tutti i costi, in special modo in un contesto, che non si addice minimamente ai miei principi ed al mio modo di essere, pertanto intendo fare un passo indietro rispetto a tale storia e tornare quanto prima alla passione, che nutro per la mia professione. Grazie